riceci a guzzi accusa aurora di ricorso contro il leggegno civile acqualagna si prepara all'arrivo della premiere meloni aumenta la video sorveglianza sull'unione pian del bruscolo a pesaro la prima delle film ancora volano le farfalle vl ufficiale il ritorno delle centro mochevicius una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 27 ottobre che apriamo tornando a parlare delle case della discarica di riceci un caso sulle quale oggi è intervenuto stefano guzzi assessore regionale con delega d'ambiente tutela del paesaggio e gestione di rifiuti lo ha fatto convocando la conferenza stampa a fano per rendere pubblici alcuni sviluppi che sta prendendo la vicenda vediamo il servizio ogni scorso abbiamo approvato una delibera in giunta regionale proposta dall'avvocatura regionale per difenderci da un ricorso al tar di una tal società io sinceramente l'avevo anche vista un po passare senza averla approfondita poi dopo che è passata ho dato un'occhiata a cosa riguardava e riguarda un ricorso al tar che la società aurora partecipata da marchi molti servizi richiedente i permessi per realizzare la discarica di riceci che ha fatto contro il genio civile della regione marche per opporsi a quelle che sono le considerazioni che il genio civile della regione marche ha posto in conferenza di servizi su quella discarica cioè la cosa che io voglio porre in evidenza è che il genio civile regione marche ovviamente fa il suo lavoro tecnico nelle conferenze di servizi e pone sulle questioni che vengono messe diciamo così in evidenza pone le sue considerazioni le sue prescrizioni non dice se va bene o se non va bene pone le problematiche in questo caso le problematiche che riguardano un dissesto idrogeologico presente su quell'area delle frane delle situazioni diciamo di bosco che non può essere sradicato per realizzare una discarica tutta una serie di situazioni ecco le pone ed la detta richiedente a quel punto deve portare delle sue contro deduzioni come normale che sia in una conferenza di servizio bene prima ancora di portare queste contro deduzioni ci fanno un ricorso al tar e sapete con quale motivazione perché le considerazioni e le indicazioni date dal genio civile marche secondo loro danneggia la realizzazione della discarica e pone problemi e limite alla realizzazione della discarica quindi come se il genio civile regione marche dovesse essere diciamo così a disposizione di una società che pone diciamo un richiesto di questo genere ma qual è la cosa che mi fa più strano e sinceramente la voglio denunciare perché un conto è una società privata fa il suo lavoro e ci può anche stare ma aurora è partecipata da una società pubblica da marche multi servizi anzi nei patti parasociali c'è che quella società una volta eventualmente ottenuti i permessi sarà completamente acquistata da marche multi servizi e allora a me fa strano che una società pubblica faccia un ricorso al tar contro la regione marche contro il genio civile citando addirittura il presidente della regione marche come diciamo indirizzario di questo ricorso ecco un ricorso al tar di questo genere evidenzia in maniera diciamo così definitiva il fatto che la regione marche e il genio civile della regione marche ha fatto il suo lavoro non è pro o contro la discarica ha fatto il suo lavoro tecnico e a posto delle giuste questioni che vanno chiarite e vanno approfondite dalla società richiedente i permessi se questa società si fa ricorso al tar vuol dire che la regione marche ha fatto bene il proprio lavoro ha messo in evidenza le criticità esistenti su quel territorio e si è opposta a quel tipo di soluzione l'ultimo richiamo lo faccio ai proprietari di marche multi servizi particolarmente al sindaco di pesaro e al presidente della provincia cioè voi dovete vigilare su queste situazioni non è possibile mettersi in contrapposizione tecnica e politica con il genio civile della regione marche il genio civile della regione marche era il genio civile della provincia fino a pochi anni fa sono gli stessi dirigenti sono gli stessi direttori sono gli stessi funzionari che portano avanti il loro lavoro e devono vigilare sulla sicurezza dei territori sul dissesto ideologico sulle sondazioni dei fiumi sulla difesa della costa e se pongono delle problematiche alla realizzazione di un'opera vuol dire che hanno le loro ragioni e una società partecipata dal pubblico fa un ricorso al tar contro queste considerazioni ecco questa è la cosa che io voglio fortemente denunciare bisogna che a tutto questo la politica di questa provincia abbia un sussulto di dignità e ponga in qualche modo chiarezza su queste procedure non è possibile una situazione di questo genere e arriverà domani alle ore 11.30 ad acqualagna la premier giorgia meloni lo farà in occasione della giornata inaugurale della 58esima fira delle tartufo la premier assieme al ministro raffaele fitto sarà accolta dalle presidenti della regione marche acquaroli per firmare l'accordo di coesione che destinerà 330 milioni di euro di fondi nazionali alle marche da destinare ad interventi infrastrutturali marche che saranno la seconda regione dopo la liguria a beneficiare dell'accordo acqualagna si prepara le grande evento che prevede anche che la meloni visiti gli stand della fiera e la casa natale di enrico mattei più di 800 mila euro investiti per implementare i servizi di video sorveglianza dei nostri territori con più di 200 telecamere tra valle foglia tavuglia gabice mare gradara monbaroccio e pesaro comuni dell'unione pian del bruscolo che oggi hanno illustrato questo salto di qualità rivolto alla sicurezza dei territori è un investimento sulla sicurezza che supera gli 800 mila euro quello che sei comuni dell'unione pian del bruscolo mettono a terra per implementare la video sorveglianza dei rispettivi territori 357 telecamere molte delle quali con sistema di rilevazione targa system per un salto di qualità aggiuntivo alla sicurezza del territorio che funga da deterrente a furti reati e infrazioni al codice stradale sistemi di video sorveglianza che sono stati presentati oggi nella sede dell'unione pian del bruscolo alla presenza degli amministratori dei sei comuni coinvolti e dei funzionari della polizia locale le telecamere che sono state implementate nel territorio di valle foglia tavuglia e monbaroccio hanno delle nuovissime caratteristiche sono telecamere su una piattaforma molto moderna e prevedono sia telecamere di contesto che consentono il controllo di un'intera area h24 tutti i giorni dell'anno e una registrazione dei filmati sufficientemente lunga per consentire poi alle forze di polizia di intervenire nel caso vengono consumati degli illeciti ci sono anche delle telecamere intelligenti cosiddette intelligenti che sono telecamere targa system che consentono la lettura delle targhe e l'incrocio di questo dato della targa con tutta una serie di banche dati che restituiscono informazioni fondamentali per la fase della prevenzione che sono il transito di vetture che risultano oggetto di furto il transito di vetture che sono prive della copertura assicurativa che sono prive della copertura della revisione periodica e consentono di fare rete fra gli organi di polizia affinché le informazioni investigative inserite nel sistema siano condivisibili a tutti per esempio se una vettura dal territorio di pesaro dove gli occupanti hanno consumato un illecito si sposta verso un altro territorio della dello stato le informazioni tutti sarga system sul territorio ci consentono di seguire il percorso di questa vettura fino a costruirne l'indagine e la prova per portare per denunciare all'autorità giudiziaria gli autori del reato nel dettaglio sono 84 le telecamere fra gabice e gradara per 412 mila euro di investimento ed invece 406 mila euro l'investimento nei restanti sei comuni per 123 telecamere fra valle foglia tavuglia mombarocce monte ciccardo che si aggiungono alle 150 già presenti nella città di pesaro siccome questo è incomprensorio per fortuna un'unione dei comuni e che la più importante delle marche ancora molto sicura e noi siamo orgogliosi che rimanga sicura abbiamo il dovere di avere una rete di controlli grazie alla collaborazione con la prefettura con la questura con l'arma di carabinieri con la guardia di finanza con la polizia dello stato pur essendo un compito dello stato del ministerio degli interni la sicurezza ma la sicurezza poi si ripercuote inevitabilmente sul sindaco se la città non è sicura o c'è una percezione che non è sicura non è solo il controllo delle telecamere o il controllo della velocità del rispetto del codice della strada e anche avere la piena occupazione questo è un territorio dove c'è il lavoro c'è la piena occupazione è un territorio dove cominciano a scarseggiare le case perché quelli che vengono per lavorare poi se non trova la casa ritornano via però è un territorio ricchissimo e questo investimento io ho ringraziato i sindaci tutti i sindaci la giunta dell'unione perché per noi è un investimento importante sul futuro delle nuove generazioni per la sicurezza di questa parte del territorio di questa economia della sua rete commerciale e l'insieme della comunità dei cittadini e a pesaro il comune ha recentemente acquisito dall'azienda sanitaria territoriale una porzione dell'ex complesso psichiatrico san benedetto per la sua riqualificazione comune che aspetta un'analoga mossa anche da parte della regione in merito alla quale arrivano però le rassicurazioni delle consigliere regionale nicola bayocchi nicola bayocchi presidente commissione sanità della regione marche tra i tanti progetti in cui il comune di pesaro lavora a braccetto con la regione marche c'è quello della riqualificazione del san benedetto un progetto complesso su cui ci si muove in due direttrici il comune recentemente ha dato approvazione dell'area di sua competenza per l'acquisizione da ast e aspetta perlomeno a parole comunque anche degli assessori una mossa dalla regione marche sull'area di propria competenza qual è la situazione in questo senso la situazione è semplice intanto è bene ricordare che se non ci fosse stato un interessamento da parte della regione marche il comune di pesaro non avrebbe mai potuto intercettare bando pinko quindi benissimo un esempio ottimo di collaborazione tra enti come dovrebbe in realtà essere e adesso il comune ha fatto giustamente i suoi passi legati anche ai fondi pinko e quindi con le scadenze che ci sono all'interno di questi fonti di finanziamento adesso la regione sta facendo delle valutazioni in quanto trattaci di un di un investimento grossissimo e quindi giusto che l'ast e il direttore generale faccia tutte le opportune valutazioni anche in riferimento alla dismissione dell'ospedale del vecchio ospedale san salvatore che verrà con la costruzione con la costruzione del nuovo quindi si stanno valutando in maniera molto celere altre soluzioni ma ricordo che ancora deve venire il rogito tra il comune di pesaro e la regione marche in questo caso all'ast per il passaggio di alcune proprietà e di passaggio di conseguenza di soldi verso la regione verso la regione quindi questo può essere sicuramente il momento iniziale propedeutico a una progettazione da parte della parte della regione quindi siamo assolutamente fiduciosi la regione quello che promette fa a differenza di quello che sostengono in tanti quindi promessa che va in linea a un rispetto anche della scadenza prefissata per non perdere questi fondi questa chiaramente la scadenza per i fondi è legata legata alla parte che riguarda il comune la regione non ha vincoli legati alla tempistica alla tempistica del del comune però chiaramente è intenzione di questa di questa amministrazione di trovare una soluzione quanto prima che sia assolutamente in linea con i lavori che il comune sta facendo lutto a sant'angelo invado dove è morto all'età di 97 anni giuseppe pasquini storico sindaco delle paesi di cui fu primo cittadino dalle 1956 alle 1985 una lunga carriera politica che lo vide anche fondatore e primo presidente della comunità montana dell'alto metauro nonché segretario provinciale della democrazia cristiana e continuano i controlli intensificati dei carabinieri di fano a contrasto delle degrado urbano che hanno portato mercoledì a verificare 70 persone e 40 veicoli i controlli con l'ausilio di unità cinofili hanno permesso di fiutare dosi di ascis per uso personale addosso ad una giovane nei giardini della rocca malatestiana sempre in centro storico è stato rintracciato un extra comunitario ventotenne irregolare sulle territorie nazionali alle quale è stato notificato il decreto di espulsione i controlli sono stati estesi anche alla stazione ferroviaria di fano e marotta dove i militari hanno rintracciato un ventotenne sottoposto alle foglie di via obbligatorio con il divieto di ritorno nelle comune di mondolfo e messo a suo carico dopo essersi reso responsabile delle furto all'interno di un camping di marotta ieri ci siamo occupati della battaglia contro l'installazione delle antenne di telefonia sul san bartolo mentre oggi vengono annunciati nuovi passi avanti per la revisione del regolamento comunale e delle piano di rete per l'installazione degli impianti di telefonia mobile delle comune di pesaro l'assessore la sostenibilità maria rosa conti ha convocato per martedì 7 novembre alle ore 17 e 30 un appuntamento online con i cittadini per illustrare e condividere la proposta elaborata dallo studio polab incaricato di redigere il nuovo piano e ridefinire le modalità per l'installazione delle antenne l'incontro informerà i pesaresi sulla normativa vigente sui limiti di pianificazione entro cui le comune deve muoversi e soprattutto sulle modifiche apportate è in corso un iter legislativo per la tutela dei malati di fibromialgia una tematica che domani pomeriggio diventa pesare una camminata collettiva di sensibilizzazione verso questa tematica questo percorso è iniziato il 12 di maggio in occasione della giornata mondiale della fibromialgia tre settimane fa in parlamento è stata presentata la richiesta di inserire la fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza ILEA e quindi dai un cammino e per questo la camminata appunto va a simboleggiare questo percorso che speriamo faccia luce e sostenga le persone che sono affette da questa patologia che è anche abbastanza invalidante. Un'iniziativa in cui vogliamo lanciare un messaggio importante insieme all'associazione Fibromialgia Italia con questo appuntamento patrocinato dal Consiglio regionale delle Marche e dal Comune di Pesaro. Continua infatti la nostra battaglia finché la fibromialgia questa sindrome ancora poco nota sia inserita nei livelli essenziali di assistenza. Io sono stata in Parlamento circa 15 giorni fa dove ci sono esattamente 12 diverse proposte di legge ferme da anni e speriamo che l'iter venga accelerato per fare in modo che si arrivi finalmente ad un'unica legge che dovrebbe essere approvata da tutti i partiti in maniera bipartisan perché la dignità di circa 30.000 persone nelle Marche non può essere più procrastinabile. Sono così tante infatti le persone che sono affette da fibromialgia delle quali il 90% donne e sono ancora di più quelle che invece stanno affrontando un calvario perché è molto difficile arrivare alla diagnosi. Quindi appuntamento alle 4 per questa passeggiata dalla palla questo sabato pomeriggio in direzione sud e poi a ritorno. Ed ora parliamo di un film girato a Pesaro che sarà proiettato in prima nazionale proprio nella nostra città e che riguarda la biografia di una straordinaria ragazza del nostro territorio. Vediamo a servizio. La forza e l'amore per la vita più potenti delle afflizioni della malattia. Arriva al cinema Ancora volano le farfalle, film girato a Pesaro ispirato alla storia e alla lezione di vita di Giorgia Righi, 25 anni di Gallo di Petriano che dall'infanzia vive scavalcando i limiti dell'invalidante Atassia di Friedrich. Una malattia degenerativa ereditaria alle quale Giorgia ha costantemente reagito con tenacia, ottimismo e intraprendenza. Uno stile di vita che Giorgia ha trasformato nel libro Vivere volando e che l'incontro con regista Joseph Nenci ha portato ad adattare in un lungometraggio presentato oggi nel comune di Pesaro. Raccontare una storia così delicata come quella di Giorgia Righi su una pellicola sicuramente è un'avventura difficile già in partenza. Perché questo? Perché quando si raccontano dei drammi legati soprattutto a delle disabilità che possono nascere purtroppo da patologie, in questo caso anche proprio dalla giovane età, Giorgia Righi adesso oggi è una ragazza di 24-25 anni e purtroppo sono tantissimi anni che combatte con l'Atassia di Friedrich. Noi però abbiamo avuto la capacità secondo me di capire qual era la fotografia esatta da donare alla pellicola interpretando Giorgia. Giorgia combatte sì con un dramma ma ha trovato nel dramma la forza di reagire e quindi è un film e una vita, soprattutto quella vera di Giorgia Righi, è una vita di riscatto e di rivincita sulla vita stessa. Così lo è il film. Il film racconta sì a una colonna portante drammatica ma racconta però anche il riscatto e la rivincita di Giorgia. A trasferire i sentimenti di Giorgia Righi sul grande schermo è stata la straordinaria interpretazione di Beatrice Mariani. Beatrice Mariani è l'attrice che interpreta la mia parte, Giorgia, che ha una malattia, l'Atassia di Friedrich, ma nonostante questo vuole realizzare i suoi sogni e quindi è stata anche un'emozione grandissima poter vedere delle parti della mia vita riportate sullo schermo. Il film prodotto da IP Group e trasmetto.it arriva sul grande schermo di Pesaro per la prima per poi allargarsi ai cinema di Rimini, Ancona, Porto Sant'Elpidio e Prato dove parte degli incassi sarà devoluta alla ricerca sulla tassia di Friedrich. La pellicola è stata girata interamente fra Pesaro e territori limitrofi quali Petriano e Pergola. Girare un film importante, profondo come il messaggio che il film stesso porta nella propria città direi che è ancora più emozionante. Le emozioni e gli stati d'animo bellissimi sono iniziati fin da quando ho conosciuto Giorgia e che ci ha trasmesso veramente tutte queste bellissime sensazioni. Il mio personaggio è un personaggio non facile da interpretare perché ha uno sfondo di personalità ironica burlona ma che è calato in un momento della sua vita abbastanza delicato e particolare per una serie di vicissitudini. Quindi insomma è stato molto emozionante, impegnativo ma molto emozionante interpretarlo. E parte domani il Fossombrone Sound Tour, due mesi di concerti abbinati a luoghi culturali di Fossombrone quali musei e chiese. Una rassegna presentata oggi presso la sede di ConfCommercio Marche Nord. Vediamo. Un festival che è nato grazie a un bando regionale, il Bando Accoglienza 2023 e abbiamo deciso come comune, grazie anche all'aiuto del mio direttore onorario alla musica, il dottor maestro Marco Frattini, di creare un tour ed sound all'interno delle nostre strutture museali. Con la musica noi faremo conoscere ciò che c'è all'interno delle nostre strutture museali e naturalmente cercheremo di promuovere al massimo destagionalizzando i flussi, portandoli a venire ai visitatori nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Quest'anno è stato un anno straordinario per Fossombrone, grazie anche alla tappa importantissima del Giro d'Italia, ma per le tante iniziative che l'assessorato al turismo, l'assessorato alla cultura e il sindaco Berloni hanno messo in campo. Una iniziativa questa è stata della musica, il sound tour 2023 che per circa due mesi coinvolgerà gli amanti della musica di tutta la regione ed oltre. E come Confcommercio abbiamo realizzato l'itinerario proprio della musica, l'itinerario musicale nell'itinerario della bellezza che abbiamo presentato anno scorso mettendo in risalto tutte quelle iniziative che nei vari comuni vengono realizzate per la musica, con la musica, valorizzando anche le attività di circoli culturali, delle bande, dei cori, delle orchestre e dei teatri che lungo l'itinerario della bellezza appunto valorizzano il segmento musicale. Inizierà il tutto domani all'interno della quadria Cesarini con il primo tour guidato, allietato dalla musica dei saxofonisti del Conservatorio Rossini e si concluderà il 22 dicembre col classico concerto di Natale del coro di Iesi. Ogni evento è gratuito naturalmente, quindi le solture museali saranno aperte e ad esempio nel tour di domani si potrà venire in quadria Cesarini, si creeranno due gruppi di visitatori e si procederà alla visita. Gli altri invece saranno concerti seduti all'interno della chiesa di San Filippo e si riplicerà la stessa modalità della quadria Cesarini all'interno della Pinacoteca. E concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport perché è ufficiale il ritorno alla VL di Egidius Mokevicius, centro lituano, 31enne che torna a Pesaro dove aveva già militato nella stagione 18-19. Mokevicius torna in bianco-rosso dopo aver iniziato la stagione in Lituania all'Alitus Wolves, formazione impegnata anche in Eurocup. L'ingaggio porterà con sé il presumibile taglio di shilling in un basket e mercato che arriva due giorni dalle complicatissime impegno di campionato che vedrà la VL domenica a Milano contro la corazzata Armani. È presumibile però che Mokevicius esortirà sabato prossimo contro Napoli. Restando in tema di sport, buono e pareggio 0-0 ieri sera per la Vise nel turno infrasettimanale giocata a Pontedera. Continuano il buon momento dei pesaresi che hanno ottenuto il quinto turno utile consecutivo e la terza parete di fila senza subire golle. Weekend di sport che continua questa sera con l'Ital Service che a Pesaro prova a riscattarsi dalle ultime due sconfitte in trasferta, ospitando la fortitudo Pomezia. Sarà la prima di tre partite in tre giorni al Palamegabox perché sabato alle ore 21 a scendere in campo sarà l'Ital Service Loreto Basket contro il Pescara. Domenica alle 17 sulle campo di Campanara arriva invece le Vole e la Megabox Vallefoglia che dopo due vittorie consecutive in trasferta vuole gioire davanti al pubblico di Pesaro contro la Wash Green e Pinerolo. Nelle rugby impegno in trasferta per la Fiorini Pesaro che domenica alle 14.30 farà visita alla Trevigiana Villorba. E con quest'ultime notizie di sport termina qua il nostro telegiornale. Prima però di salutarvi vi ricordo la programmazione di questa sera in onda sul nostro canale perché si comincia alle 21.20 con uno speciale tv dedicato alle metodo validation dalle emozioni dolorose alle occasioni possibili. 21.40 un altro speciale televisivo realizzato in occasione delle convegne dell'associazione 50 e più dalle titolo Eterna Giovinezza, Mito o Realtà. E vi ricordo anche il consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa domani mattina in diretta anche su Facebook alle ore 7.20 a condurre la rassegna stampa ci sarà il nostro Antonio Astuti. Ed è davvero tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.